Solo la dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Una voce nel silenzio, nonostante l'allarme lanciato più volte, l'indifferenza più totale fino a quando stamane, raccogliendo l'ennesimo disperato appello della signora Patrizia Ascolis dalla loggio popolare di uno dei nuovi stabili di Contrada Quattrograna Ovest, abbiamo telefonato ai vigili del fuoco segnalando l'emergenza. Una volta sul posto i caschi rossi hanno dichiarato inagibili gli ambienti dove ci pioeva dentro, intimando all'inquilina di non accedere nella camera da letto invasa dall'acqua piovana per l'accertato pericolo di crollo del tetto e di tenere spenta la luce in casa per evitare cortocircuiti. Allertati dai vigili del fuoco sono intervenuti anche i tecnici del comune che hanno incaricato una ditta di intervenire per sistemare i pannelli dello stabile. Una copertura in lastre di Eternit, lastre che con la pioggia erano saltate come birilli. La signora Ascolis ha ringraziato Telenossa per aver raccolto il suo SOS e allertato i soccorsi. Abbiamo fatto solo il nostro dovere, dare voce a chi spesso non ce l'ha. Non ce l'hai tu, caro Ottavio? Io stavo ancora così, con il rischio che mi poteva cadere il soffitto addosso, ma ci rendiamo conto? È abbastanza inagibile, lei non può nemmeno sistemare i secchi? No, no, ha detto assolutamente non devo né svuotare i secchi e né raccogliere l'acqua a terra e di più è stato staccato anche i contatori perché io non posso accendere neanche più la luce. I contatori sono questi e queste sono le chiavette che mi è stato staccato. Quindi sta al buio e piove dentro casa? Sì, adesso sono venuti, come ben vedi, perché sempre per te, sono venuti e mi stanno sistemando, insomma, saranno sistemando, non lo so. Almeno per la messa in sicurezza. Per la messa in sicurezza, però il vigile del capitano che è venuto qua è inagibile, di cui io non potrei neanche stare qua, però io per il momento... Perché non è sicura l'abitazione, hanno detto. Questa stanza mi ha detto che non ci devo neanche più accostare, di più mi tocca dormire qua con mio figlio e stare con i bagni al buio. Insomma, evitato il peggio perché poteva crollare il... Sì, sì, abbiamo mai... No, cioè, voi avete rischiato insieme con me. Sì, sì, me l'ha detto, era inagibile questa stanza, quindi... L'importante, insomma, che adesso si sono accorti di questo disagio e possano provvedere quanto prima... Si sono accorti grazie a te, grazie a te, grazie ai vostri operatori. Ma se no chi se ne accorgeva? Se voi non esistavate, non lo so che poteva succedere, è la realtà. Grazie a voi che avete avuto fiducia in noi. Sì, sì, ma se non... Cioè, se non era per i vostri operatori, io non lo so se a quest'ora sto ancora parlando con voi.